buongiorno e ben ritrovati alla strategy del 4 febbraio 2023 per continuare a parlare della luna piena nel segno del leone ma prima di iniziare lanciamo la sigla così avete il tempo di mettere like di abbonarvi al canale se non lo avete ancora fatto di cliccare sulla campanellina se volete essere aggiornati sull'uscita di ogni nuovo video e di condividere alla fine il video se vi è piaciuto eccoci all'astro tg per continuare a parlare della luna piena nel segno del leone andiamo questa volta a vedere più da vicino gli aspetti che hanno a che fare con questa luna piena del cambiamento abbiamo detto ieri del risveglio della ribellione dell'affermazione di sé e della ripresa del proprio potere sovrano a discapito del potere che ci piomba dall'altro e che prende delle decisioni nostro malgrado contro la nostra consapevolezza decidendo al posto al posto nostro e privandoci per questo di quello che vorremmo fare realmente delle nostre libertà giocando sulla paura tutto questo forse andrà verso una fine con questa primavera certo stiamo vivendo un periodo di guerra ma ci sarà spazio fra una guerra e l'altra fra una guerra che fra l'altro abbiamo visto ieri che probabilmente andrà calmandosi per poi chissà esplodere più tardi ma nel frattempo nel momento di calma fra una tempesta e l'altra potremo almeno riprendere la nostra identità batterci insieme per quello che trova che riteniamo giusto e per la verità bene questo in realtà ce lo fanno sperare questi questi transiti abbiamo visto ieri come la tematica pandemica sta scemando come pfizer se la sta vedendo male con gli atti perpetrati dal dai militanti del progetto veritas vediamo che effettivamente se spesso la questione pandemica e degli sbracciamenti l'abbiamo attribuita a sullo scorpione al nodo sud è anche la propaganda pandemica al sagittario e in particolare c'è stata la propaganda pandemica durante il transito del nodo sud nel sagittario adesso è in seguito la propaganda vaccinale con il transito del nodo sud in scorpione bene adesso vediamo che tutti i pianeti sono dall'altra parte dell'opposizione che crea la luna il sole formando questa culla bene la culla è un quel luogo sicuro dove noi a livello personale o le popolazioni a livello collettivo si sentono bene quindi si sentono bene e al sicuro lontani dalla parte opposta quindi tutto quello che ha a che fare col nodo sud e quindi con la propaganda pandemica del sagittario e la propaganda degli sbracciamenti del nodo sud in scorpione quindi è come un prendere le distanze completamente da questo da queste tematiche e andare verso altro nei luoghi più sicuri rappresentati da questa da questa culla oltre al nodo sud fuori dalla culla abbiamo plutone che anch'esso è legato alla tematica pandemica se vogliamo e mercurio che abbiamo visto più volte lo stiamo attribuendo a twitter di elon musk che si avvicina sempre di più attraverso il dialogo attraverso le notizie del messaggero mercurio si avvicina sempre di più a quel antagonista che plutone in capricorno andando a svelare sempre più segreti di questa tematica pandemica infatti anche elon musk è intervenuto riguardo a quelle denunce fatte dagli esponenti del progetto veritas attraverso quel video scandalo delle rivelazioni fatte a sua insaputa da parte di un personaggio ai vertici della pfizer bene mentre la pfizer non ha non si è espressa elon musk con con twitter ha cominciato a lanciare dei twitter per denunciare e per dare visibilità a questo a questo avvenimento quindi mercurio e plutone si avvicinano e sono un altro segnale anche se sono fuori dalla culla sono un altro segnale di come molte verità ver verranno a galla perché ormai siamo lontani da questi imbrogli scorpionici del nodo sud e della propaganda della tematica pandemica abbiamo visto ieri le valenze attraverso i gradi sabiani della luna e del sole che fanno questa opposizione tenendo tutto il resto dei pianeti dei nostri interessi lontani dalla tematica pandemica ho vogliosi di denunciare questa tematica pandemica abbiamo visto lilith che è anch'essa in leone e come questo ci può portare verso delle ribellioni verso questo solo in acquario che che mette luce sul fatto che effettivamente stiamo andando verso un'era acquariana di cambiamenti attraverso tantissime cose che ormai sono alla luce del giorno se la tematica pandemica nella tematica pandemica c'erano caduti molti adesso con l'avvento della guerra con il fatto che si parla di questa nuova nutrizione a base di insetti sul fatto che ormai è chiaro che vogliono instaurare anche la trasformazione delle case in case green quindi vogliono modificare la nostra alimentazione vogliono modificare le nostre case tutto a spesa della nostra salute a spesa delle nostre tasche e ultimamente c'è anche il discorso legato alla all'intelligenza artificiale si parla tantissimo della chat gpt che è capace ormai di fare cose sconvolgenti di intrattenere dialoghi con l'essere umano bene tutti questi argomenti con il volo in acquario mettono luce sull'era acquariana che ormai noi la possiamo vedere e possiamo sapere fin dove ci va bene fin dove non ci va bene e che se ci siamo fatti fregare diciamo dalla situazione pandemica probabilmente ci lasceremo meno abbindolare dalle tematiche a venire fra cui ci vediamo ci troviamo la tematica bellica su cui molti ormai non sono d'accordo e hanno capito che mandare le armi all'ucraina non è una cosa positiva e quindi la tematica della guerra con marte che bisognerebbe andare verso un dialogo appunto con marte in gemelli una sorta di ripresa della nostra ferita identitaria grazie al dialogo sui social con marte in gemelli che ci fa capire che noi siamo legati ad un'identità un'identità anche alimentare che non siamo disposti a mangiare degli insetti a cambiare tutto quello che vogliono farci cambiare non siamo disposti a pagare così tanto per trasformare a indebitarci per trasformare le nostre case in case green e quindi si dialoga di tutte queste tematiche tematiche tutte da urano in toro e vediamo che infatti la luna l'opposizione luna sole va a quadrare con una t quadra verso urano in toro quindi tutta questa energia che abbiamo visto ieri come può essere un'energia positiva e di risveglio di ribaltamento e di cambiamento punta contro urano in toro quindi il dialogo si instaura con marte in gemelli e la ferita identitaria di chirone in ariete si solleva si risolleva un tantino e grazie al dialogo che ritroviamo quello che dicevamo ieri riguardo al trovare un dialogo fra la società che ormai è divisa probabilmente sta avvenendo lilite in leone e mercurio contribuiscono alla ribellione e all'uscita di informazioni che può risvegliare in noi la consapevolezza e quindi il dialogo e di conseguenza tutto il dialogo si fa proprio contro quel contro tutte le tematiche di questo urano in toro che ormai è proprio al centro del toro a 15 gradi ovviamente quando diamo energia un pianeta attraverso come sta venendo per urano in questa t quadra spingiamo anche urano a una conferma una conferma della sua azione in toro e quindi di tutte quelle politiche di rinnovamento di di evoluzione strutturale della società in direzione futuristica acquariana tecnologica è anche legata al preservare l'ambiente quindi alla tematica ai cambiamenti legati alla tematica ambientalista è come se urano dice datemi addosso parlatene discutetene grazie a questa luna piena che porta questo grazie alla culla che si è venuta a creare fra i vari pianeti discutetene anche in negativo purché che parliate di queste cose e quindi attenzione però a non far diventare attraverso il dialogo queste cose parte di noi quindi alla fine accettarle attraverso il dialogo bene certo è meglio accettare dei cambiamenti attraverso il dialogo che attraverso l'imposizione soprattutto se poi il dialogo permette di dire ok a te va bene mangiare insetti perfetto puoi mangiare insetti a te va bene comunicare con la chat gpt fallo a me non va bene io sono un altro tipo di società i miei valori sono altri la mia sovranità è un altro tipo la mia sovranità da luna in leone della società o del popolo nel quale mi rispecchio è di un certo tipo per te un'altra ok si dialoga ma se tu vuoi mangiare insetti mangi insetti io preferisco mangiare altro ad ogni modo però il dialogo permette di non chiudere completamente le porte a delle iniziative rivoluzionarie di questo urano in toro ma il dialogo permette comunque di abbracciare anche queste alternative purtroppo o fortunatamente dipende dal punto di vista perché magari mangiare insetti probabilmente effettivamente su otto miliardi di persone può preservare la natura però dall'altra parte non si sa come possiamo reagire noi a questo tipo di alimenti a livello della nostra salute quindi l'importante però è che il dialogo si instaura e che si crei effettivamente della comprensione come abbiamo visto ieri la nostra lotta attraverso il nostro dialogo può continuare a favore di un'evoluzione in casa 10 della società delle società ma con la difficoltà e la tensione che dobbiamo porre a tener conto dei valori del nostro prossimo di quello che può essere anche il nostro nemico non dobbiamo essere nemici dobbiamo amarci nonostante le nostre differenze con questa venere esaltata sul discendente in pesci quindi sulla tensione che dobbiamo porre amorevole al nostro prossimo ed è difficile appunto perché il prossimo si scontra con le nostre iniziative ma andiamo avanti grazie a marte per i nostri di valori ebbene con questo per la strategia di oggi con l'analisi del cielo della luna nuova domificato sul roma è tutto quindi vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento alla settimana prossima grazie a tutti grazie a tutti